ok allora si parte ok benissimo benvenuta anna maria questo secondo appuntamento per quanto riguarda illustramente speciale maggio calvino e p3 noi abbiamo in i abbiamo fatto questo appuntamento qualche giorno fa riguardo questo passaggio importantissimo legato alla figura del p3 e la emma perodi che ha condiviso vent'anni della sua vita proprio qui a palermo e noi abbiamo desiderato con con illustramente porre al centro della della lettura della appunto del viaggio che stiamo facendo a ritroso nelle fiabbe siciliane proprio tre figure che appunto sono la laura gonze in barca di seppe p3 e la emma perodi che secondo illustramente si inserisce di diritto in quello che riguarda un patrimonio fiabistico della fiabba ambientata in sicilia e quindi ehm ci darei anche eh brevemente la parola eh per quello che riguarda eh questo passaggio che è nella nell'essere ehm della nostra autrice di emma perodi appunto così prolifica rispetto a quello che era la creazione di fiabbe quindi noi conosciamo attraverso illustramente al tempo dei tempi città monti e mari di sicilia che è quello che comunque stiamo rivalutando proprio per diffondere il nome eh di emma perodi e tra l'altro appunto ricordo che appunto a novembre ci sarà questo eh convegno dedicato ai vent'anni eh palermitani della eh della vita appunto di emma perodi e quindi eh questa intersezione sempre maggiore con quello che è stata poi eh la vita di eh Giuseppe P3 quindi questa connessione sia di emma perodi nei confronti di Giuseppe di P3 e poi rispetto al territorio perché lei non ha scritto soltanto il tempo dei tempi eh fiabbe e leggende di Sicilia ambientandole quindi tramonti, mari eh e città ma ne ha create altre tra l'altro tu ne hai parlato anche ne parli molto anche nella diffusione a livello nazionale di quello che è la eh la la produzione appunto di emma quali sono gli altri titoli ecco eh allora ce ne sono molti altri e dovete sapere che è stata definita la signora delle fate proprio per la sua grandissima produzione di libri eh di fate e di esseri fantastici eh prima della venuta a Palermo lei era già famosa per aver scritto le novelle della nonna che sono una raccolta di 45 novelle ambientate tutte tranne una in un casentino una delle vallate toscane un casentino medioevale quindi intorno al millequattrocento e anche molto goticheggiante perché sono novelle piene di morti cadaveri scheletri eh diavoli di streghe animali fantastici quindi insomma un'atmosfera che non sarebbe dispiaciuta tutto sommato a Stephen King famoso scrittore horror e anche i nostri giovani e poi qua ed è pensate che già c'era un contatto all'epoca con Giuseppe P3 perché Giuseppe P3 leggendo le pubblicazioni appuntate di queste novelle che avvenivano sul giornale dedito da Edoardo Perino che fu poi l'editore di Emma Perodi nel suo periodo romano ehm si offrì di scrivere la prefazione a queste novelle la prima pubblicazione delle novelle della nonna alla prefazione di Giuseppe P3 che si complimenta con la Emma Perodi per la sua fantasia per il suo stile e quindi avevano avuto una conoscenza già prima che lei venisse in Sicilia quando poi lei venne in Sicilia la prima volta e fu per l'occasione dell'esposizione nazionale di Palermo nel milleottocento novantuno si rinsaldarono questi legami anche perché Giuseppe P3 esponeva lui stesso aveva uno stand di del in base alle tradizioni popolari siciliane dove appunto la stessa Emma che era venuta inviata come giornalista per fare una serie di articoli sull'argomento ebbe modo di visitarlo vederlo e complimentarsi con il suo amico dopo di che quando lei tornò definitivamente a Palermo chiamata dall'editore Salvatore Biondo che la voleva direttrice della sua collana eh la bibliotechina Aurea Illustrata e collaboratrice per quelli che erano i suoi progetti editoriali di editoria scolastica perché questo editore aveva capito che era necessario combattere l'analfabetismo che era molto evidente poi dopo l'unità d'Italia si notavano anche le differenze tra il nord e il sud e quindi pensò che il modo migliore per combattere l'analfabetismo era di fornire ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado una ricca produzione di libri di testi di libri di lettura di sussidiari e in questo trovò la completa ed entusiasta direi collaborazione di Emma Perodi che ricordando quelle che erano state le sue radici culturali quando lei a giovane ventenne era addirittura andata in Germania per studiare la pedagogia di Friedrich Fröbel pedagogista tedesco e per studiare la realizzazione dei kindergarten i giardini di infanzia di allora poi lei aveva abbandonato la sua ispirazione pedagogica perché ha voluto perseguire il suo entusiasmo per il giornalismo e per la scrittura ma queste radici le aveva conservate le poter attuare proprio in questa occasione senza dimenticare naturalmente la sua passione per le fiabe per i racconti fantastici tant'è vero che nella frequentazione di Giuseppe Petrè che divenne una frequentazione familiare perché proprio la famiglia la ospitò varie volte tant'è vero che e lo abbiamo nell'archivio nazionale di Palermo sono conservate le edizioni originali dei volumi di al tempo dei tempi questi volumi sono dedicati a in modo autografo e c'è la dedica autografa della Megrodi proprio alla nipotina di Giuseppe Petrè quindi la frequentazione delle famiglie era molto stretta e lei ebbe modo perché il Petrè fu molto gentile nei suoi confronti a differenza dell'atteggiamento piuttosto critico che ebbe invece con Luigi Capuana di cui non approvava le fiabe che aveva scritto invece fu molto disponibile nei confronti di Emma Perodi tant'è vero che le fece leggere i suoi quattro volumi di fiabe e tranquillamente fu ben lieto che lei si ispirasse in molte occasioni alle fiabe che aveva letto del Petrè per rielaborarle ampliarle ma trascriverle in questi volumi tant'è vero che nel volume del storia dei mare del mare di Sicilia c'è la fiaba perodiana dell'uomo pesce che è tale quale la fiaba di colapesce di Giuseppe Petrè è solo un po' più ampliata e però nel tempo dei tempi non è l'unico esempio perché sempre in Sicilia nel periodo siciliano lei scrisse anche per esempio l'antro dell'orco e il paradiso dei folletti nella reggia della fata Belinda insomma una produzione ricchissima. E' interessante e sarà interessante approfondirla perché la Perodi li ambienta le sue storie rendendo identificabili o nominando i luoghi. Quindi diventa importante nella narrazione che illustramente vuole fare e far fare sui sentieri della fiaba ai territori si raccontano anche lì andare a ricollocare queste fiabe che sono da un lato inventate e riscritte dalla fantasia e dalla mano di Emma Perodi però partono da quelle radici che appunto il P3 al P3 possiamo dire vengono riconosciute anche nell'unicità del suo lavoro perché non dobbiamo dimenticare che il nostro caro Giuseppe P3 insieme alla nostra cara Emma Perodi hanno potuto rappresentare Giuseppe P3 la sua unicità riconosciuta poi dallo stesso Calvino ed è il motivo per cui li abbiamo messo insieme insieme. Infatti c'è un film lungo che lega questi autori. Assolutamente ed illustramente lo sottolinea di volta in volta non perché se ne vuole intestare la maternità o la paternità assolutamente no ma perché diciamo questo aspetto della visione che Italo Calvino che noi appunto durante quest'anno festeggiando e comunque commemorando i cento anni della nascita di Italo Calvino illustramente vuole continuare a tessere questo legame e a valorare quello che era la tesi di Italo Calvino che la Sicilia e la Toscana quindi unite non solo dall'amicizia di Emma Perodi e di Giuseppe P3 ma avevano e hanno quindi ancora oggi tra le raccolte di fiabbe più belle al mondo. Quindi diciamo che c'è proprio un legame culturale tra le due regioni che verrà sottolineato dalla presenza che ci ha assicurato la sindaca di Cerrito Guidi che interverrà personalmente al convegno di Emma Perodi quando si farà il 16 di novembre prossimo. E quindi io mi auguro che ci sia contemporaneamente la presenza delle autorità palermitane per creare una sorta di gemellaggio tra le due realtà culturali. Assolutamente. Io do una... diciamo mi piace parlare perché come sai, come sanno anche chi ci sta seguendo illustramente ha ricevuto questo monore, questo piacere di far parte delle vie delle fiabbe europee quindi viene riconosciuto proprio per quanto riguarda la rappresentazione della voce della Sicilia a livello europeo della fiabba e la fondazione nazionale Carlo Collodi appunto ha voluto che facessimo parte di questa via della fiabbe europea. e quindi noi abbiamo in occasione di un bando che è uscito voluto tessere maggiormente questo ponte tra le due regioni e quindi avvicinarle proprio perché il nostro P3 ha scritto delle fiabbe toscane quindi ambientate lì nel suo periodo ecco perché c'è stato questo e ci piacerà poterne approfondire ancora di più proprio all'interno del convegno, quindi mi piacerebbe inserire tra le ospiti del tuo convegno anche la presidente della fondazione, la responsabile, la presidente delle vie della fiabbe e quindi la responsabile della fondazione nazionale Carlo Collodi proprio perché i ponti... hai l'audio chiuso Emma? sarà assolutamente una cosa ottima creare queste relazioni culturali tra le varie realtà per portare avanti insieme tutto questo disegno che speriamo e ci auguriamo che sono culmini nel riconoscimento delle fiabe come patrimonio immateriale dell'umanità assolutamente sì, soprattutto quelle del meridione d'Europa che sicuramente hanno radici e possono essere radici di un'identità anche europea partendo dalle nostre radici del meridione d'Italia ma questo è un sentiero che noi chiaramente stiamo cercando proprio coinvolgendo i comuni e facendo questo passaggio all'inverso delle fiabe raccolte nei libri farle ritornare alla voce, alla narrazione e alla lettura ad alta voce che poi è quello che proponiamo ed è anche il motivo per cui noi siamo qui oggi proprio per diffondere il valore e il piacere di leggere fine a se stesso io non mi stancherò mai di dire perché poi parlando con le prof, con le professoresse, con le maestre ogni volta che si parla di lettura si evolve la lettura quasi minimizzandola e facendo altro quindi rappresentazioni sceniche, drammatizzazioni, disegni e quant'altro possa essere diciamo, ecco, ispirato da una lettura o da un libro illustramente vuole porre invece proprio l'accento sul piacere di leggere fine a se stesso quindi tanto che domani pomeriggio, mi dispiace che tu non puoi essere presente ma proprio al Museo P3 ci sarà questa creazione di questo circolo che virtualmente e in presenza cercherà di raccogliere più membri dei vari circoli perché oggi, appunto, ieri ho parlato anche con Castelbuono che si unisce a questo cammino che stiamo facendo con i comuni ma appunto sul sito sia di illustramente anche sulla pagina Facebook che volevo appunto visitare anche adesso un attimo con voi e con te Anna Maria proprio il fatto che i comuni via via, passaparola, stanno aderendo quindi da Monreale, Ventimiglia di Sicilia, ma come diciamo adesso Castelbuono, Cefalù io adesso ancora li ricordo tutti a memoria ma non vorrei comunque dimenticarne qualcuno e appunto già lo possiamo vedere attraverso il sito di illustramente che mi piace adesso condividere subito proprio perché è stato anche aggiornato di recente rispetto a quello che sono le attività che stiamo portando avanti tutti insieme e abbiamo il piacere di dire, devo dire la verità, io sono onorata in questo caso sono direttore artistico di questa manifestazione ma posso dire che questo speciale maggio è stato creato tutti insieme ognuno ha messo un tassello e ha dato il programma che è appunto quello che ha fatto proprio nascere il programma di questa manifestazione questo quindi è il sito illustramente.it, il blog come vedete appunto ci sono i post che rappresentano lo speciale che stiamo portando avanti noi rispetto appunto al programma che è dettagliato all'interno proprio della manifestazione quindi dando voce a tutti i circoli di lettura compreso Oskenes, compreso i cantieri culturali della Zisa e così via le biblioteche di Borgo Nuovo, Brancaccio eccetera arrivando appunto anche ai vari comuni che stanno aderendo quindi Villa Trabbia, Pallavicino per poi arrivare ad Acquedolci, al comune di Capodorlando a quello di Monreale, Tortorici e anche una scuola che oggi mi ha mandato tra l'altro il video che è la De Amicis da Vinci di Palermo che con la scuola dell'infanzia ha aderito addirittura alle fiabbe con i piccolini e le fiabbe del P3 quindi una bellissima soddisfazione nel caso appunto dello speciale Calvino ma io vorrevo andare proprio sui circoli di lettura nella pagina circoli di lettura che cosa sono i circoli la presentazione appunto di tutto quello che riguarda i circoli e anche una cartina come vedi Anna Maria penso che tu ne sia contenta che si sta iniziando proprio a segnare non so se la vedi, la vedi Anna Maria? Sì sì la vedo Ok, appunto vediamo i comuni che stanno via via Adesso si aggiungeranno appunto appunto dicevi? Allora e quindi 20 miglia di Sicilia si deve spostare nella provincia di Palermo e poi appunto a Quei Dolci, Caporlo d'Orlando con Frazzanotto, Artorici, San Piernicetto Ucria e 20 miglia Volevo fare un'altra precisazione anche Caltagirone piuttosto che Monreale chiaramente Palermo Volevo fare una precisazione proprio su questa piantina San Piernicetto è la patria dove nasce la narratrice che poi ha in Caterina Certo che ha dato a Laura Gronzenbach la possibilità di scrivere quindi è una narratrice che appunto ha ispirato le fiabe siciliane di Laura Gronzenbach al contrario a Palermo domani al Museo P3 noi saremo nel cortile di Agatuzza Messia che è appunto la narratrice che è anche la nutrice di Peppe P3 che appunto ha ispirato e raccontato proprio era una bravissima narratrice e molte delle narrazioni che il P3 ci riporta vengono dalla voce di Agatuzza Messia a questo punto vedo il suo canuzzo che fa dietro il canuzzo passa e va esatto proprio il fatto appunto che ci ha fatto piacere domani essere ospiti appunto al Museo P3 in questo cortile perché è il luogo adatto dove ci rimetteremo in circolo a narrare le storie assolutamente e adesso passerei e entrerei proprio all'interno del libro che ci vede oggi appunto il motivo per cui noi siamo qui insieme condivido nuovamente lo schermo per arrivare a quello che è il eccolo qui vediamo un po' se riesco condividi schermo che sicuramente tu avrai tra le mani il libro ce l'ho qua esatto esatto anche io lo dovrei avere da qualche parte però io eccolo qui il mio ce l'ho qui ok ce l'ho anch'io qui però volevo che tutti fossero partecipi quindi chi ci ascolta fosse partecipe nel vedere questo tesoro che la Salani ci ha messo a disposizione per poter fare arrivare queste storie proprio in occasione del concorso di illustrazione che dobbiamo lanciare e che vede partner le Accademie di Belle Arti di Palermo e Catania perché avere il libro e poterlo leggere consentirà proprio di poter attraversare i racconti trarre ispirazioni per le illustrazioni che dovranno partecipare questa è la meravigliosa copertina qui vediamo appunto a colori rispetto appunto al fatto che abbiamo già sostolineato l'incontro precedente Emma Perodi ha sempre privilegiato l'illustrazione ha dato sempre nelle sue storie valore al vedere quindi chiedeva a pittori importanti del periodo in cui lei visse di illustrare le sue storie entriamo quindi questo è al tempo dei tempi fiabbe e leggende della città di Sicilia io volevo ecco appunto iniziamo bene avevo già forse adesso si è rimesso com'era ma noi lo risistemiamo immediatamente ruotiamo così come ci è stato insegnato poco fa vediamo se riusciamo eccolo qua una sinistra aspetta un attimo che intanto tolgo la condivisione dello schermo in maniera tale che così riusciamo ad arrivare diciamo all'immagine è bella pulita quindi io riapro il mio file perché appunto i potenti mezzi messi a disposizione ogni tanto vanno in tilt però ci tenevo insomma allora se nel frattempo tu vuoi iniziare innanzitutto volevo iniziare ricordando che al tempo dei tempi si intitola così perché sottolinea l'incipit di tutte queste fiabe perché queste fiabe non cominciano con cera una volta non cominciano neanche con l'incipit al siciliano di cera cacera io non sono siciliana perdonerete l'accento ma inizia proprio con al tempo dei tempi che è comunque una nota atemporale perché al tempo dei tempi non si sa esattamente quando ed è l'incipit di tutte le fiabe anche se poi come hai sottolineato anche tu c'è una linea temporale ben precisa perché le fiabe sono attualizzate in determinati momenti della storia siciliana e voi avete fatto un lavoro egregio ricostruendo tutta la linea temporale a partire da Ruggero d'Altavilla quindi proprio l'anno 1000 diciamo fino ad arrivare attraverso tutte le dinastie che si sono succedute fino ad arrivare all'unità d'Italia all'ingresso della Sicilia nel regno di Italia ed è stato un lavorone veramente egregio che ha privilegiato vedo anche le figure femminili delle regine o reggenti che si sono alternate nella sequenza temporale e l'altra cosa che c'è in queste fiabe come anche hai sottolineato tu la localizzazione molti luoghi che si possono ritrovare perché ci sono molti castelli che vengono descritti in queste fiabe che ancora esistono molti luoghi di Palermo che si possono andare a rintracciare e che ancora esistono come per esempio in una delle fiabe il cortile delle sette fate o la calata dei giudici che è un'altra strada che riporta questa antica denominazione e quindi sono veramente temporalmente individuate e anche i luoghi si possono individuare perfettamente assolutamente quindi io adesso sono riuscita a riaprire il file e come vediamo appunto i vari titoli qualche titolo dovete pensare che in ognuno dei libri di questa trilogia c'è una variante tra i dieci e gli undici racconti generalmente sono cutali e il fatto di aver privilegiato anche le illustrazioni perché in ognuno ce ne sono almeno due se non tre che illustrano le varie fasi della fiaba e queste sono tutte illustrazioni fatte dal famoso illustratore toscano Carlo Chiostri che all'epoca la fine dell'ottocento primi novecento andava per la maggiore anche perché aveva da poco illustrato le avventure di Pinocchio di Collodi che nella loro prima uscita portavano appunto le illustrazioni di Carlo Chiostri infatti ecco voi vedete qui appunto questa è la storia di un giovane principe che viene addirittura trasformato in una statua di pietra come si poteva vedere dalla cosa e sono tutti ecco questo il cortile delle sette fate delle sette fate infatti una zona di Palermo che esiste ancora io leggerei solo l'incipit perché al tempo dei tempi abitava a Palermo in un vicoletto che sboccava davanti al monastero di Santa Chiara un gobbetto figlio unico di una gobba e nipote di una vecchia gobba anche lei questo per far capire come le fiabe partono dai territori e noi tentiamo di farle ritornare proprio ai territori perché appunto soprattutto Emma Perodi diede veramente dava vita alle storie qui vediamo le illustrazioni di cui parlavi parlavi tu dove queste sette fate sono rappresentate trasformate in sette uccelli e siccome questo gobbetto aveva espresso il desiderio di essere senza la gobba lo sollevano poi lo buttano giù lo fanno cadere tante volte finché la gobba non sparisce sì e qui torniamo al fatto che comunque c'è una certa cruenza infatti qua chiamerei anche e sottolineerei come faccio quando incontro anche i bambini o i ragazzini anzi che parlare di fiabe non vuol dire parlare ai bambini o leggere le fiabe perché le fiabe come ci insegna qualcuno non nascono proprio per essere rivolte ai bambini assolutamente fondamentalmente le fiabe nascono per intrattenere i grandi perché in epoche in cui non c'era radio non c'era televisione non parliamo dei social e le famiglie si riunivano a sera d'inverno intorno al focolare d'estate nell'aia parliamo generalmente di famiglie contadine che erano la realtà più rappresentata nell'Italia dei tempi passati e si raccontavano queste fiabe allora l'uditorio era composto non soltanto dai bambini della famiglia ma dagli adulti dagli amici che si riunivano ad ascoltare quello che soprattutto le donne anziane raccontavano perché le avevano sentite raccontare dalle loro madri e dalle loro nonne in tutto un fil rouge al femminile in cui venivano riportate queste fiabe che erano arrivate nei territori come dice la professoressa Laura Marchetti sui piedi degli uomini perché erano gli uomini i soldati degli eserciti i marinai delle navi i mercanti con le carovane eccetera che portavano queste fiabe e le fiabe arrivavano in un territorio si mischiavano anche con le leggende delle tradizioni locali e poi venivano espresse dalle donne che le raccontavano e le arricchivano e le arricchivano e mettevano gli aspetti locali che facevano anche la differenza però il nucleo fondamentale della fiaba restava sempre lo stesso ecco perché ci sono delle fiabe veramente ubiquitarie cito soltanto la sirena di cui abbiamo già parlato in un precedente convegno che appunto è ubiquitaria perché si trova in tutta l'area del Mediterraneo si trova in Africa si trova nelle lande del nord si trova in America Latina e quindi ma la stessa cosa adesso infatti proprio per il re superbo perché poi troviamo lo stesso titolo anche all'interno della raccolta del P3 piuttosto che appunto il fatto che leggendo le fiabe soprattutto ravvediamo le fiabe che poi sono arrivate anche a noi attraverso per esempio i fratelli Grimm che comunque magari si ispirarono a quelle fiabe che in effetti poi forse sono un attimo anche la matrice perché Basile nel punto di punti è stato forse veramente il primo inventore di fiabe io direi per un certo verso che comunque sono arrivate poi chiaramente a noi e in un certo modo perché poi le ritroviamo ed è bello questo viaggio anche farlo con i ragazzi con i giovani di far vedere come queste fiamme realmente camminavano sulle gambe di chi appunto è del viandante di chi appunto andava da un punto all'altro da un posto all'altro si muoveva anche per emigrare per lavoro per guerra per tutto quello che chiaramente è anche sottolineato più e tu e il re superbo appunto sono molto belle ma poi io resto incantata anche dalle illustrazioni illustrazioni veramente che sono superbe chiaramente questo è comunque un file che ci arriva e non dà non dà la stessa magia che dà chiaramente ma sono illustrazioni particolari anche ottenute con una tecnica silografica molto particolare tipica di questo illustratore perché poi le novelle della nonna oltre che da chiostri hanno avuto altri egregi illustratori tipo Leonardo Edel tipo Ezio Annichini che avevano tutta un'altra mano altrettanto meravigliosi di segni ma tutti i diversi anche l'evoluzione anche dei tempi perché poi anche nell'evoluzione dell'illustrazione Andrea questo per esempio è una bella ragazza ma proprio per parlare della linea temporale di cui hai parlato tu Anna Maria e illustramente tra l'altro ha sul sito perché se noi iniziamo a mescolare come la fiaba la storia riusciamo con la fantasia anche a ritrovare determinate dinastie all'interno delle fiabe per esempio al tempo dei tempi viveva Palermo il duca che era il primo signore della città basti dire che aveva maritata l'unica sorella con re stesso allora anche questo ci fa capire quello che è la storia per esempio della Sicilia riguardo appunto a queste famiglie reali che si univano appunto su le varie con le varie appunto con i principi i duchi dei territori e andavano poi a dividere a spartirsi un po' i territori stessi della Sicilia e questo ritrovarli nella linea storica che non deve essere ripeto un fatto scientifico deve essere anche il piacere di adattare le fiabe e ambientarle in determinati territori reali o meno questo ci interessa poco perché c'è anche il piacere del divertimento allora questo per esempio andrei un po' dritto rispetto a quello che è la nostra pagina quindi faccio un attimo anche perché il tempo passa andrei un attimo a arrivare alla pagina che è la 143 del libro in maniera tale che così possiamo seguirti nella nella lettura ok benissimo ok arrivo sto arrivando io prendi la tua pagina esatto e così arriviamo ma volevo fare una piccola premessa rispetto al fatto che noi oggi parliamo di una fiaba che ha un titolo un po' particolare lo vuoi dire tu il titolo di questa fiaba è la visione di Guglielmo il buono e dovete sapere che la fiaba precedente che riguarda il padre di questo Guglielmo il buono si intitola Guglielmo il malo e lo scudo d'oro e anche questa è una fiaba molto interessante perché ci fa vedere l'influenza araba nella città di Palermo perché nella fiaba si vede la convivenza di tutta la comunità arabo-musulmana con la comunità palermitana pensate che c'è scritto che gli araldi che andavano in giro per magnificare e vendere un certo cavallo parlavano in arabo in latino e in greco per farsi conoscere dai vari strati della popolazione a testimonianza della sovrapposizione di culture che esisteva nella città di Palermo con grande convivenza pacifica di tutte queste culture infatti e questo diciamo quello che tu sottolinei è poi la nostra grande particolarità riconosciuta da tutti rispetto alla alla nostra multiculturalità e anche i nostri dialetti che sono veramente un'infinità ma io ti volevo ricondurre al fatto della visione di Guglielmo il buono che noi appunto perché avendo Monreale quindi avendo diciamo questo rapporto diretto con Monreale credo che questa realmente una fiaba che può tornare ad hoc una fiaba ad hoc allora ti ascoltiamo Anna allora al tempo dei tempi regnava in Sicilia il re Guglielmo secondo che era così virtuoso onesto e pio che il suo popolo gli aveva messo il soprannome di buono anche per distinguerlo dal padre suo Guglielmo detto il malo per le sue scelleraggini Guglielmo secondo era buono con tutti coi cristiani come coi saraceni coi ricchi come coi poveri aveva il cuore candido come la neve non faceva mai torto a nessuno aiutava i poveri era misericordioso con tutti ma Guglielmo benché fosse anche bello e colto non era felice il pessimo governo del padre le tante ingiustizie e ruberie commesse che avevano così impoverito il popolo di Sicilia erano per lui come un continuo rimprovero quando il giovinetto re vedeva i mendicanti affrotte recarsi alla reggia chiedendo l'elemosina provava un dolore da non dirsi ed esclamava con tutto il fervore vergine santa datemi il mezzo di rimediare a tanta miseria e io vi erigerò un tempio che non vi sarà l'uguale nel mondo un giorno Guglielmo traversava su un bianco cavallo il quartiere della calza in prossimità del mare tutto abitato da sereceni pescatori era triste secondo il solito e si recava con poco seguito a pregare nella piccola cappella della vittoria dalla quale il bisavolo suo il conte Ruggero d'Altavilla era penetrato con l'aiuto della Vergine Maria in Palermo assediata inutilmente già da cinque mesi per mare e per terra mentre procedeva pensoso con le redini abbandonate sul collo del cavallo esce da un tugurio una vecchia centenaria nera come un tizzo spento con gli occhiacci cispellosi i capelli tutti bianchi e stendendo la mano ad unca fino ad afferrare il cavallo per il morso disse nella sua lingua io re potente so molte cose che nessuno sa se tu rinunzi a pregare oggi Maria di Nazareth se volgi briglia ed entri nella moschea maggiore e preghi Allah e il suo profeta io ti rivelerò dove tuo padre nascose tutti i tesori che tolse ai siciliani quando ritirò tutta la moneta sonante e dette invece moneta di cuoio con la sua effigie lo sdegno animò il volto del giovinetto re vecchia tentatrice gli rispose io sono cristiano come i miei avi e non adorerò mai altro dio che il dio vero grande onnipotente il figlio al suo divino la beata vergine e i santi e i martiri nelle moschee degli infedeli non entrerò mai ma non vedi la miseria del tuo popolo non vedi quante madri coi figlioletti morenti si affollano ogni giorno intorno alla reggia chiedendo pane non vedi quanti vecchi scheletriti circondano il tuo cavallo non appena ti scorgono chiedendo pane non vedi quanta gente muore chiedendo per pietà pane pane è chiuso il tuo cuore alla pietà guarda là quel gruppo di gente in mezzo c'è un uomo che agonizza per inedia ora quei pietosi gli danno un po' di ristoro ma domani egli sarà di nuovo assalito dalla fame e chi potrà dargli soccorso il tuo dio non ti aiuta a facersare tanta miseria prega il mio e sarai esaudito lungi da me vecchia tentatrice io sono cristiano e morrò cristiano se il mio dio non mi aiuta sia perché vuol mettere alla prova la mia costanza e la mia fortezza e spronato il cavallo si diresse alla cappella della vittoria ma fatti appena pochi passi vide due bimbi stesi in terra accanto al cadavere di una donna della madre loro e più lungi un uomo nel fiore dell'età livido estenuato empirsi la bocca con una manciata d'erba e con quella saziare i crampi dello stomaco vuoto le lacrime fecero velo allo sguardo del giovinetto re il quale toltosi dal collo una croce d'oro l'ultimo gioiello che conservasse e che aveva carissimo la mise nelle mani del sacerdote che era accorso a riceverlo sulla porta della cappella e gli disse vendila e soccorri quegli infelici e sempre col volto inondato di lacrime entrò nel tempio si inginocchiò sulla nuda terra e con tutto il fervore dell'anima pregò vergine beata tu che proteggesti visibilmente l'impresa del lavo mio e lo aiutasti a liberare l'isola di Sicilia dai saraceni infedeli da questo tempio da cui tu lo facesti penetrare in Palermo io ti prego e ti scongiuro di farmi conoscere ove il padre mio nascose i tesori tolti ingiustamente al popolo siciliano signora del cielo tu vedi il mio cuore tu sai che se io ti chiedo quella rivelazione non è per cupidigia ma per calmare la fame di tante migliaia di infelici che giorni e notti maledicono la cupidigia del padre mio signora del cielo consolatrice degli afflitti esaudiscimi e io ti farò erigere a gloria tua il tempio più bello di tutta la cristianità un tempio unico che sarà un canto perpetuo di lode in tuo onore il giovinetto il giovinetto re terminata la preghiera alzò i begli occhi ad un rozzo quadro della vergine che ornava la cappella e gli parve che gli occhi di lei si muovessero e la bocca fosse atteggiata a un benigno sorriso più consolato si alzò rimontò a cavallo e fece ritorno alla squallida reggia ove nelle sale magnifiche ornate di mosaici non eccheggiava mai nessuna gaia risata ove i volti dei cortigiani erano velati di mestizia ove tutti i discorsi si aggiravano sulle pubbliche calamità Guglielmo non usava come il padre non usava come il padre di lettarsi nel soggiorno degli incantevoli palazzi della Cuba e della Zizza gli aveva fatto togliere come dalla reggia tutti gli oggetti di valore per convertirli in grano da distribuire ai poveri li aveva spogliati della suppellettile preziosa e le nude pareti delle sale i giardini incolti non eccheggiavano più di suoni e canti non vi si vedevano più danzatrici quando egli usciva a Diporto andava nei boschi della vicina collina di Monreale oppure all'abbazia di San Martino ove i benedettini pregavano e lavoravano la terra per dar pane agli affamati ma non mi andava con seguito di cavalieri né di falconieri di cani come gli altri re si bene con pochi fidi per invigorire le membra nell'aria pura dei boschi ed essere poi più forte per sopportare le calamità una volta era appunto nei boschi che rivestivano la collina di Monreale e da una radura aveva contemplato il mare deserto di Vele perché il commercio era morto la magnifica conca in cui si aggeggiava Palermo tutta inselvatichita perché mancavano i mezzi per coltivarla e Palermo dove si addensavano tante miserie a quella vista il giovinetto re esclamò signora del cielo vergine gloriosa fate che il mio popolo non debba più rimpiangere la signoria dei saraceni al tempo di essa questo mare era coperto di navi che portavano qui i prodotti di tutti i paesi e ne portavano via le derrate e le merci questa conca era una vera conca d'oro per la feracità del suolo ben coltivato dove nascevano messi e frutti in gran copia la città di Palermo era ricca e il popolo vi trovava lavoro ben remurerato ora voi vedete lo squallore e la miseria è questa è opera dei cristiani signora del cielo vergine gloriosa fate cessare tanta onta tanta sventura così pregò lungamente il giovinetto re a un tratto la sua mente si offuscò gli occhi quasi gli si chiusero le gambe si rifiutarono di sostenerlo ed egli ebbe appena il tempo di stendersi sull'erba che già dormiva egli si era coricato all'ombra di uno scuro carrubo che spandeva i suoi rami su di un largo tratto di terreno quando in sogno gli comparve la vergine seduta sul trono con due angeli e ai lati di lei erano gli apostoli più sotto quattordici santi più basso ancora a destra e a sinistra san pietro e san paolo e mastoso in mezzo ai suoi come sorreggente tutto quell'edificio celeste il cristo col volto spirante mansuetudine e bontà gli occhi di guglielmo fissavano estatici le figure bellissime quando le labbra della vergine si schiusero e la voce soave disse guglielmo l'afflizione del tuo cuore mi ha commossa e per te e per il popolo tuo ho interceduto presso il mio divin figlio egli nella sua benignità ha concesso che ti apparissi e ti parlarsi ascolta guglielmo i tesori estorti dal padre tuo al popolo siciliano sono nascosti nel terreno sul quale tu dormi scava e li troverai e costa appunto erige un tempio a perpetua espiazione dei peccati di colui che rese odioso in Sicilia il culto del cristianesimo non appena la vergine dal trono ebbe terminato di parlare la figura del Cristo arzò la mano in atto di benedire poi tutta l'apparizione di leguò e il giovinetto Ressi destò dal sonno ma ancora gli risuonava nelle orecchie la voce dolcissima e negli occhi serbava la visione di quel lembo di paradiso si alzò sbalordito pronunziò una ferbida preghiera di ringraziamento e pieno di fede nella promessa celeste si tolse dal tocco una piuma d'airone e la piantò sotto il carrubo dove l'erba era schiacciata dal peso del suo corpo per non confondere quel carrubo con altri che crescevano vicino e tutto lieto raggiunse il seguito e fece ritorno alla reggia di Palermo poi senza rivelare ad alcuno il sogno avuto annunziò che il giorno dopo sarebbe partito per Calata Busambra dove era un forte eretto dai sarecini e di fatto vi si recò e là presi seco alcuni villani con zappe e vanghe tornò a Monreale egli si diede ansiosamente a cercare il carrubo sotto il quale aveva dormito credette riconoscerlo alla penna d'airone conficcata nel terreno e lì ordinò che fosse scavato il suolo scava scava non fu trovato nulla e il piccone incontrò la dura roccia che messa a nudo e in essa non si che fu messa a nudo e in essa non si vedeva nessuna apertura scoraggiato il buon re ma non sfiduciato fece rimettere la terra a posto licenziò i villani remunerandoli del lavoro fatto e con digiuni e preghiere cercò benignarsi la vergine gloriosa raffermandole la fede nel suo aiuto ogni giorno il re sperando di avere una nuova visione si recava nel bosco di Monreale il terzo giorno fu preso al solito da un gran sonno e sdraiatosi sull'erba soddormentò ed ebbe la stessa visione e la voce dolcissima gli disse ascolta Guglielmo l'eterno nemico del genere umano e tuo in specie vede la penna che tu conficcasti nel terreno per riconoscere il luogo dove giaceva il tesoro e la portò altrove il tesoro è qui dove hai dormito oggi dove dormisti la prima volta fa un segno indelebile che Satana non possa cancellare il giovinetto re appena desto udendo ancora la voce dolcissima risuonare al suo orecchio vedendo ancora tutto lo splendore del regno celeste trasse il pugnale e con la punta di esso incise sulla corteccia del carruvo il suo nome poi senza andare alla reggia di Palermo si recò alla calata a Busambra e se ne tornò coi villani che avevano scavato la prima volta ma che vide mai appena giunto tutti i carruvi che crescevano abbondanti sul colle di Monreale erano stati scortecciati dal fulmine e naturalmente l'iniziale del nome reale era pure scomparsa signora del cielo esclamò a quella vista Guglielmo non permettete che il nemico del genere umano impedisca che io possa usufruire della vostra benignetà fate che io possa sollevare le angustie del mio popolo questa volta il re non cadde nel sonno dopo la fervida invocazione ma adesso udì la voce dolcissima che gli diceva vicino al carruvo al cui piede sono seppelliti i tesori vedrai una pianta di rose tutta fiorita lì conficca la spada che ha sull'impugnatura la croce e il nemico implacabile del genere umano satana fuggerà nel vederla il re cade ginocchioni ringraziando la vergine della sua benignetà e si diede a cercare la pianta di rosa fiorita ma in quel momento il cielo si fece di piombo si alzò un vento impetuoso e fulmini e tuoni accompagnati da acqua e grandine resero impossibile al re di proseguire rifugiato in una grotta naturale attese lungamente il cessar della bufera ma quando questa si calmò la notte è già calata i sentieri del colle erano convertite in tante fiumane cosicché Guglielmo dovette attendere l'alba e questa sorse radiosa le piante verdissime parevano tutte rivestite di nuove foglie il cielo era di un azzurro pallido incantevole e l'aria di una purezza deliziosa dopo la consueta preghiera matutina il re si diede di nuovo a cercare la pianta di rosa fiorita maimè il temporale aveva portato via tutti i petali dei fiori e vide non poche piante di rosa ma nessuna aveva fiori cerca cerca finalmente ne scoprì una spoglia pure di rose ma nel fondo di una fossa che l'acqua viveva scavato al piede riempendola vide molti petali incarnatini mescolati al fango e lì nella terra conficcò la spada con l'impugnatura a forma di croce quella stessa spada che i suoi avi avevano cinta nell'impresa di terra santa prima di approdare a Salerno e di cominciare la conquista delle Puglie col cuore pieno di speranza nell'efficacia del santo segno per fugare Satana e i suoi deboni Guglielmo fece ritorno alla reggia di Palermo e fatti chiamare i villani di Calata Busambra i quali erano fuggiti durante la tempesta suscitata dal gran nemico del genere umano per impedirgli di ritrovare i tesori seppelliti dal padre tornò nel bosco di Monreale la con sua immensa gioia trovò la spada che gli aveva conficcata e poco distante vide una specie di voragine aperta nel terreno dalla quale Satana certo era sprofondato nell'interno vedendo la croce lì Guglielmo fece scavare e a peca na pochi palmi nel terreno le vanghe dei villani incontrarono la roccia tolta la terra si vide una porticina di ferro che il re fece rompere e aperta quella apparve una lunga scala scavata nella roccia scese quella scala e quale non fu la sua gioia la sua commozione trovandosi in una grotta ampia come una piazza con tutte casse di ferro giro giro che contenevano monete sonanti il re risalì e spedì un messo a Palermo con l'ordine di inviargli cento mule e quando queste giunsero le fece caricare di monete poi lasciati alcuni cavalieri a guardia del tesoro andò a Palermo dopo sei giorni la grotta era vuotata e Guglielmo quel giorno stesso faceva un bando balletti e paggi giravano per la città e per le campagne annunziando che il re ritirava tutta la moneta di suola come la chiamavano e dava in cambio moneta sonante e sempre in quel giorno partiva ammessi per tutte le città del mondo per invitare gli architetti più celebri a presentare un disegno del tempio che doveva sorgere sulla collina di Monreale bello e maestoso come nion altro tempio della cristianità i maestri mosaicisti a presentare disegni per ornare le navate con i fatti più noti dell'antico e del nuovo testamento e gli scultori per farvi i lavori di marmo nell'abside doveva essere raffigurata in mosaico la vergine in trono con due angeli gli apostoli ai due lati più sotto quattordici santi e più sotto ancora e dai lati san pietro e san paolo e finalmente il cristo come era apparso a guglielmo la prima volta vennero gli architetti in palermo e presentarono i disegni vennero i mosaicisti da venezia e da costantinopoli e vennero gli scultori da pisa e da firenze ma nessuno dei disegni parve a guglielmo quando egli lo aveva sognato e sempre pregava la vergine che ispirasse lei gli artisti per il tempio che voleva dedicarle una mattina nel destarsi guglielmo trovò i disegni tracciati sulle pareti della sua camera su una c'era la facciata su un'altra una delle porte laterali sulla terza l'abside con la visione riprodotta e sulla quarta uno dei lati interni della navata nessuno può ridire l'esultanza di guglielmo cade ginocchioni pregò con tutto il fervore di cui era capace il suo cuore riconoscente e subito chiamati architetti maestri mosaicisti e scultori ordinò loro di copiare il disegno di ingrandirlo e di preparare il materiale e nell'anno 1174 fu posto a mano alla costruzione e vi furono impiegati per ordine del re tutti coloro che non avevano lavoro la costruzione durò 15 anni e guglielmo spese per il tempio somme enormi e sempre sollecitava architetti e maestri mosaicisti di terminarlo presto per timore di morire senza vederlo compiuto annesso alla cattedrale costruì un convento vi fece venire i benedettini di cava e sopra il trono reale nell'interno della cattedrale fece fare un mosaico che lo rappresentava in atto di offrire il tempio alla vergine il re non aveva figli ma non si cruciava tanto della successione al trono quanto di quello della cattedrale mancava poco che fosse ultimata quando il re che era nel fiore degli anni ammalò di un male che nessuno conosceva egli non pregava perché gli fosse concessa la salute soltanto supplicava la vergine che gli concedesse tanti giorni di vita per veder terminato il tempio e la grazia gli fu concessa quel giorno di gioia egli lo visse e sentì le benedizioni del popolo poi si spense ma Guglielmo vive ancora nella memoria del popolo siciliano e il tempio è là in alto con le sue colonne con le sue porte bronze con i suoi mosaici preziosi su fondo d'oro e quando il sole del tramonto penetra dalle alte finestre pare un lembo di paradiso ed è degno trono alla vergine e ancora il popolo orgoglioso di quel tempio dice chi va a Palermo e non vede Monreale se ne parte asino e se ne torna animale assolutamente infatti ecco questo è un esempio della capacità narrativa di Emma Perodi assolutamente assolutamente io ogni volta che l'ascolto siccome entrare al al Duomo di Monreale e soprattutto al tramonto è un'esperienza unica unica io ho un ricordo bellissimo e magari vediamo di andarci a novembre e cercheremo di allinearlo con il tramonto perché io di recente grazie a questo ponte che Palermo ha creato con Monreale e con i membri del circolo di Monreale con Amelia Grisantino che portano avanti egregiamente questo lavoro di lettura anche nelle scuole è veramente veramente una magia è bellissimo bellissimo proprio perché la descrizione che ne fa Emma Perodi è reale quindi è un invito a visitare ma così come è palpabile anche il suo racconto nel vedere la desolazione di una Palermo che comunque era stata denudata di tante ricchezze per la cupidigia di qualcuno quindi del padre stesso di Guglielmo e quindi è bello certo lei ha aggiunto tante altre cose probabilmente la storia ma chi se ne importa nel senso che è bello poterla raccontare e ascoltarla ascoltarla da te e ti ringrazio sempre di questi pomeriggi che ci hai dedicato perché la magia della lettura del saper leggere ti porta al vederle a vedere attraverso le immagini assolutamente le immagini quindi intanto grazie Anna Maria noi abbiamo sei stato anche in perfetto orario perfettamente all'orario e ecco l'invito insomma a realmente a buona lettura e buona fiabe a tutti e ci incontriamo presto magari con altri con altri appuntamenti un grande abbraccio grazie a voi alla prossima a presto